Siamo di fronte sicuramente a una grande produzione, l'abbiamo compreso vedendo l'imponenza dei numeri in gioco, più di 250 comparse, operatori di ripresa, scenografi, costumisti e poi per la presenza di un cast davvero eccezionale, la presenza di Giudolo a Pentotene veramente ha fatto molto piacere a tutti ed è stato visto con, anche se è difficile avvicinarlo con grande interesse, con grande amore da parte di tutti i suoi fans e abbiamo anche dato la possibilità una volta terminate le riprese a Giudolo di vedere le bellezze dell'isola che ha molto amato, è stato condotto nel museo ornitologico che è una delle nostre perle dell'isola e abbiamo consentito di vedere quello che è una caratteristica unica della nostra realtà isolana, cioè vedo Dene come luogo, come tappa fondamentale delle migrazioni degli uccelli e quindi ha molto apprezzato questo aspetto e è andato promettendoci che sarebbe ritornato a farci visita.